E' un oggetto piccolo eppure può migliorare la qualità di vita di tanti cardiopatici, è il Coagucec, un nuovo sistema di controllo per la terapia anticoagulante a cui sono sottoposti tanti pazienti con problemi cardiocircolatori. E' stato acquistato dall'Associazione Ugubina Amici del Cuore ed è in dotazione alla farmacia comunale di Piazza 40 Martiri. Da oggi grazie ad una convenzione stipulata tra la Presidente del Sodalizio Maria Vispi e il Presidente della Gubbio Cultura e Multiservizi, soggetto gestore della farmacia comunale Roberto Tanganelli, tutti gli associati degli Amici del Cuore potranno effettuare gratuitamente il test della terapia anticoagulante presso la farmacia. Per chi non è associato il costo è di 3,50 euro, il tutto per 5 anni. Un servizio che cambia radicalmente la quotidianità di soggetti cardiopatici in terapia che, piuttosto che recarsi settimanalmente o mensilmente in ambulatorio per il prelievo di sangue dal braccio, con ciò che questo comporta per soggetti dove la terapia rende il fluido ematico più difficilmente coagulante, possono recarsi in farmacia e, come fanno i diabetici, prelevare una piccola quantità di sangue da un dito della mano per poi leggere il risultato sull'apposito apparecchio. E' quindi il farmacista ad inviare i dati alla dottoressa Giovanna Branca del presidio ospedaliero che a sua volta, paziente per paziente, prescrive il dosaggio della terapia di farmaci. Un servizio questo presentato stamani alla presenza anche del sindaco Guerrini e del consigliere comunale Cardile, che interessa almeno mille persone nell'Eugubino. Tante sono infatti quelle che seguono la specifica terapia e che troveranno giovamento da questa convenzione. Già in studio la possibilità di inviare direttamente a casa per email la terapia alle singole persone, piuttosto che ritirarla in forma cartacea al centro prelievi. Facilitare e rendere più indolore il controllo della terapia anticoagulante, ha detto il dottore cardiologo Cardile, convincerà anche tanti cardiopatici a seguirla regolarmente come strumento efficace per la prevenzione di infarti ed ictus. Quanto a giorni ed orari di prelievi il lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e 30.